Gian Domenico Basso cala il poker sul rally del Ciocco. Il forte ed esperto pilota Vicentino ha infatti vinto per la quarta volta il rally del Ciocco e della Valle del Serchio, aggiungendosi dunque nell'albo d'oro ai successi che già aveva annoverato nel 2013 e nel 2014. Al suo fianco Lorenzo Granai sulla scoda Fabia R5. Non è stata una vittoria facile per Basso che ha dovuto rintuzzare fino all'ultimo l'attacco di Simone Campedelli. Un rally del Ciocco che non ha deluso le attese, un rally del Ciocco che si è corso in condizioni meteorologiche veramente molto belle di fronte ad un grandissimo pubblico. Un rally del Ciocco che per gran parte della giornata era stato dominato però da Andrea Crugnola, il pilota varesino che ha corso con la nuova Polo Volkswagen. Ma Crugnola si è dovuto ritirare per la rottura dell'idroguida nel corso della undicesima prova speciale. Il podio del 42esimo rally del Ciocco e della Valle del Serchio, prima prova del CIR 2019, è stato completato dall'ottimo Simone Campedelli su Ford Fiesta R5. E al terzo posto ce l'ha fatta proprio all'ultimo Luca Rossetti che si presentava con la Citroen C3 R5. Un Rossetti che ancora non è parso, forse quello che molti considerano il grande favorito per la vittoria finale di questo CIR.